auguri a tutti e benvenuti alla falla la 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 live extreme series holiday special preparate gli alberi di natale e allacciate le cinture della slitta per una rocambolesca corsa natalizia offerta dalla live live realizza per voi telecamere di qualità perfette per i vostri regali quassù il sole bacia la griglia di partenza ma i nostri piloti dovranno attraversare le nuvole e scendere nel bel mezzo di una tempesta che li attenda qualche piccola turbolenza o una vera tormenta dovranno comunque dare il meglio è difficile distinguere i contorni di un terreno ricoperto di neve i piloti vedranno solo una distesa di fiocchi che renderanno il loro bianco natale un po più problematico del previsto state pronti amici è il momento di scoprire il nostro prossimo veicolo inizia 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 Grazie a tutti. Difficile dire se siano le macchine ad andare veloci o il vento a spingerle, ma io con questo tempo non uscerei di casa nemmeno a piedi. Figuriamoci in auto e lanciato a tutta velocità. In questa cittadina, fino a poco fa, si sentivano solo cori natalizi. Adesso sono coperti dal rombo di motori. Per quest'ultimo tratto volevamo usare le slitte, ma non siamo riusciti a trovare abbastanza renne. A queste temperature i fiumi gelati possono essere rischiosi, ma non quest'anno, altrimenti i nostri piloti avrebbero festeggiato un bagnato Natale. Ma guardate un po', una dose extra di atmosfera natalizia. Ma finché la gara non è finita, è meglio che i piloti non pensino ai regali. Grazie. 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 Grazie a tutti. A nome di tutti noi vi auguro che anche le vostre feste siano speciali. Ci vediamo l'anno prossimo con i nuovi eventi Live Extreme. Grazie. 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 Grazie.